Ciao ragazzi, un altro partner che mi segue in questa avventura del 70.3 di Cervia è Genia Business. Genia Business è una società, un SRL, creata e gestita, diciamo così, nella quasi totalità da Anselmo, che è anche mio partner e mio amico. Che cosa fa Genia Business? Fa tutto ciò che può essere inerente alla finanza agevolata. Ovviamente potete trovare riferimento sul sito e potete guardare tutto ciò che Genia Business vi può offrire nell'ambito appunto di bandi, agevolazioni e ogni tipo di aspetto collegato alla finanza agevolata. Un bel ricordo, diciamo così, con Anselmo è nata una bellissima amicizia. Lo conobbi in un locale quando facevo il PR, esattamente il locale si chiamava Papillon. Non ricordo esattamente la città, penso che fosse Castel San Pietro, comunque bisogna controllare. Da quella serata poi abbiamo continuato a sentirci, lui ogni tanto, lui è sempre stato un grandissimo lavoratore e lo è tuttora, però ogni tanto gradiva poter uscire magari e divertirsi e sbagarsi, insomma. Io gestivo diversi locali o almeno organizzavo tante serate e ogni tanto lui veniva a salutarmi. Ecco, nel tempo è cresciuta questa amicizia che appunto si è poi consolidata da un punto di vista business, possiamo dire, appunto in Genia Business. Ecco, quindi grazie, grazie Anselmo e per qualsiasi cosa Genia Business per quanto riguarda la finanza agevolata. Ciao ragazzi!